amici di bella sicilia si vede che amiamo la natura sicuramente sì e noi adesso scenderemo da quella scalinata e arriveremo se le onde lo permettono davanti al mare restate in nostra compagnia per pochi secondi ancora vediamo di avvicinarci al mare sperando che qualche onda non si prendi mentre guardate in questo momento il mare qui di capodorlando siamo sotto al faro in questo momento arriva una brezza veramente forte c'è molto vento e noi vi regaliamo quest'altra prospettiva guardate dove siamo in questo momento per tutti gli amici di bella sicilia mentre il vento e la brezza delle onde veramente molto forte e guardate dove arrivano le onde arrivano quasi a sfiorarci bella con noi bella Ed i colori sono in questo momento particolari perché il sole inizia a farsi spazio tra le nuvole e crea questo contrasto veramente bello. Scrivete nei commenti se siete d'accordo, se vi piace questo momento che stiamo vivendo ma che dedichiamo solo a tutti i modi. Grazie a tutti. Guardate quell'onda in fondo. Guardate quell'onda in fondo. Guardate che.